In questo video voglio parlarti della mia esperienza all'estero, infatti ho vissuto 6 mesi in Irlanda quando avevo 19 anni. Piccolo disclaimer, stai ben attento, questo non sarà un video in cui ti spiegherò come prendere il volo, come trovare un lavoro, come trovare una casa all'estero e tutte queste cose, questi dettagli tecnici qua. Questo non è un video sul come, è un video sul perché. Voglio raccontarti perché ho fatto quello che ho fatto, cosa ho fatto quando ero là e come è stata la mia esperienza in generale, quali sono stati i punti negativi e quali sono stati i punti positivi. Avevo da poco compiuto 19 anni e quindi stavo attraversando il mio ultimo mese di scuola superiore. Infatti era maggio del 2019 e nella mia testa c'era solo fare 200 verifiche, la cena di matura che è una cosa che si fa dalle mie parti, fare festa con gli amici e fare questi dannatissimi esami della maturità. Una volta finiti verso fine giugno gli esami della maturità ero felicissimo ma due giorni dopo la vita mi ha sbattuto in faccia alla realtà. Infatti appena finiti gli esami mi sono detto ok e adesso cosa devo fare? Insomma è luglio del 2019, ho 19 anni, finito le superiori, inizia a nascermi l'idea di andare all'estero. Perché? Perché l'università non la volevo fare, nonostante avessi fatto un liceo ho detto sai cosa l'università non è per me, non la voglio fare, non voglio continuare con quel percorso. Allora cosa potrei fare? Vedevo due opzioni davanti a me onestamente. Trovarmi un lavoro in Italia, iniziare a lavorare e poi fare le mie cose. Oppure mi sono detto perché non andare all'estero? Mi trovo un lavoro all'estero, così prima di tutto imparo una lingua e poi posso lavorare all'estero e quando sono stufo di lavorare all'estero torno in Italia. All'inizio volevo andare in Inghilterra, a Londra, che è tipo la meta più comune per gli italiani che vanno a cercare lavoro all'estero, almeno per quanto ne sappia. Poi però ti spiego perché ho scelto l'Irlanda e te lo spiego tra poco. Mi sono scritto un po' di domande per poter affrontare questo video a punti, quindi partiamo dal primo. Quando sei partito e quanto sei stato? Allora, sono partito a settembre del 2019, ovvero due mesi dopo aver fatto gli esami di matura, quindi ero ancora un pischello, potremmo dire. Ero un ragazzino davvero di 19 anni, non ne avevo nemmeno 20. Ho deciso di prendere l'aereo e andare in Irlanda. E sono stato là per 5-6 mesi non consecutivi, nel senso che sono anche tornato per Natale qualche mese dopo a visitare la mia famiglia e poi sono ritornato in Irlanda a gennaio. Come mi sentivo prima? Da un lato ero eccitato e curioso perché ho sempre avuto, da quando ho 18 anni più o meno, dentro di me questa voglia di indipendenza. E per me l'andare all'estero, vivere da solo, scoprire cose nuove, uscire dalla mia zona di comfort, era qualcosa che mi incuriosiva un casino. Volevo sapere com'era vivere da solo proprio e quindi ero eccitato per questa cosa. Ma sarei un bugiardo se vi dicessi che ero solo eccitato perché ero dannatamente spaventato. Infatti dall'altro lato ero completamente cagato addosso perché non sapevo cosa avrei fatto là, non sapevo dove avrei vissuto, non sapevo che lavoro avrei fatto, non avevo idea di come sarebbe stato stare così tanto da solo. Soprattutto avrei dovuto lasciare la mia amorosa qua, tutti i miei amici qua, la mia famiglia eccetera eccetera. Quindi sia emozionato, eccitato ma anche spaventato. Perché sono andato là? Come vi ho detto prima finite le superiori avevo due opzioni davanti a me, lavorare in Italia e lavorare all'estero. Quindi era una scelta secondo me abbastanza logica, che cazzo stai a fare in Italia se puoi andare da un'altra parte, imparare un'altra lingua e fare delle nuove esperienze. Dato che il mio obiettivo non era di cercare un lavoro specifico o particolare per cui mi ero già preparato. Il mio obiettivo era inizi a lavorare, inizi a fare dei soldi e nel tempo libero inizi a fare le tue cose. Infatti la parte tempo libero è molto importante perché normalmente uno potrebbe pensare, ah sei andato in Irlanda per imparare l'inglese. Era il motivo secondario. Il motivo primario è che già finita la quantità superiore avevo questa vaga idea di voler creare contenuti su Instagram. E pensavo che il modo migliore per farlo fosse di farlo in inglese. Infatti facendolo in inglese avrei potuto raggiungere molte più persone ed ottenere molto più successo. Quindi il mio obiettivo primario, il motivo principale per cui sono andato in Inghilterra era vai là e crea contenuti in inglese. Una cosa che non avrei potuto fare rimanendo in Italia ad essere sinceri. E avevo anche il plus di imparo meglio la lingua inglese. Cosa ho combinato là? In questa sezione voglio raccontarti un po' come è andata la mia esperienza in generale in Irlanda. Cosa ho fatto, dove ho vissuto, come, perché, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente sarà un punto un po' lungo perché io sono andato là e perché ho scelto l'Irlanda? Semplicemente perché in Irlanda, a Dublino, per essere precisi, viveva la cugina di mio papà. Ed era un punto d'appoggio che avrei potuto sfruttare. Infatti quello che ho fatto è stato prendere l'aereo, andare a vivere nella casa della cugina di mio papà per le prime tre settimane, se non sbaglio. E mentre ero lì iniziare a trovarmi un lavoro e trovare un'altra casa. Da come sono arrivato in Irlanda le prime due settimane le ho passate a consegnare curriculum. Gli ho consegnati dappertutto, in ogni singolo posto, fino a quando sono andato in un'agenzia del lavoro. Piccolo consiglio, ecco, vai in un'agenzia del lavoro. Ovunque tu vada vai in un'agenzia del lavoro, sarà molto più rapido il processo di trovarti un lavoro. Insomma, in questa agenzia mi hanno trovato un lavoro come cameriere. Ho infatti iniziato a lavorare come cameriere, non in un posto specifico, ma mi chiamavano in un hotel, in un altro, un evento, su e giù. Se non sbaglio ero stato a Dublino a fare tipo il barista a un concerto di Ariana Grande e anche a un evento di MMA. Comunque per due settimane in pratica ho fatto quest'altro lavoro. E poi mi è arrivata un'altra offerta di lavorare all'IBM, che è questa azienda ipergalattica di telecomunicazione. Non so neanche, sarò sincera, non so neanche di cosa si occupa l'IBM al giorno d'oggi, ma vabbè. E ho trovato questo lavoro che era più fisso. Quindi ho trovato una casa vicino al lavoro, sono andato a vivere con una famiglia di persone indiane, ma non c'erano la mamma e la figlia più piccola perché erano temporaneamente in India. Quindi vivevo con il papà, il figlio e un amico del papà. Eravamo quattro uomini, di cui tre indiani e io in questa casa. È stato molto strano, ma intanto mi sono trovato a quella casa lì e pure questo lavoro in ufficio all'IBM. Allora, il lavoro in ufficio è stato uno schifo totale. Nel senso che io per il primo mese non ho fatto assolutamente niente. Poi hanno iniziato ad introdurmi nella materia, era una materia molto complessa e non avevo intenzione di rimanere lì a lungo. Infatti ho imparato e tutto, anche se non mi facevo proprio il culo al lavoro. Infatti spesso succedeva che giocavo a calcetto o perdevo tanto tempo semplicemente perché non avevano delle cose da farmi fare. Ma comunque iniziavano ad introdurmi il lavoro e ho lavorato all'IBM per, se non sbaglio, due mesi e mezzo o tre. Infatti mi sono licenziato per poter tornare per le vacanze di Natale. Ho lavorato lì da ottobre a dicembre. Sia per il lavoro in IBM che per quello da cameriere ho beccato la paga minima che lì al tempo, se non sbaglio, era di 1.400, 1.500, 1.600 euro che sembra alta ma lì in Irlanda il costo della vita è molto più alto. Molto più alto, è più alto rispetto al nostro. Torno per le vacanze di Natale. A metà gennaio ritorno in Irlanda. Trovo subito lavoro, lo trovo al McDonald's. Quindi ho fatto anche un tot di lavoro al McDonald's. Il mio piano iniziale era di rimanere in Irlanda fino a maggio del 2020. Infatti sono partito a settembre 2019 e volevo farmi tipo nove mesi fino a febbraio del 2020. C'è stato un problema, ovvero il Covid. Infatti a fine febbraio del 2020 sono dovuto tornare a casa semplicemente perché se no sarei rimasto incastrato là per chissà quanto tempo. Quindi questo è l'aspetto un po' di che cosa ho fatto, che lavori, eccetera, eccetera. Come mi sentivo? Solo. Ho spesso detto che il periodo che ho passato in Irlanda, quei sei mesi, sono stati uno dei periodi più brutti e più difficili della mia vita. Infatti lasciare tutte le persone qui e andare là, vivere da solo, per me è stato difficile. E ti dirò di più. La mia esperienza all'estero è stata molto diversa da quella di tutti gli altri. Probabilmente se tu vuoi andare all'estero sei bello gasato, vai là, fai feste, eccetera, eccetera. Credimi, io sono andato là in Irlanda e in sei mesi sono uscito una sera. E quella sera ero già a casa alle dieci e mezza. Semplicemente perché il mio obiettivo non era di andare là a fare festa, a divertirmi, a vedere com'era l'Irlanda, a bere le birre, a bere l'whisky irlandese. Nulla in contrario a tutto ciò. Ma il mio obiettivo a 19 anni, quando ero perso, quando non sapevo cosa fare esattamente della mia vita, era di capire cosa fare della mia vita. In quei sei mesi ho capito, sai cosa? Voglio dedicarmi a questa cosa dei social network. Voglio dedicarmi a Instagram e poi mi sono convinto per YouTube. Ma quei sei mesi sono stati fondamentali, uno per capire cosa fare della mia vita, due per iniziare a costruire una disciplina, per iniziare a costruire un'etica del lavoro che mi avrebbe aiutato e che mi ha aiutato negli anni successivi, fino al giorno d'oggi. Per questo ripeto, uno dei periodi più difficili della mia vita, ma anche forse il più formativo. Probabilmente se tu vuoi andare all'estero, quello non è il tuo obiettivo, ma il mio obiettivo era non voglio conoscere nessuno qua. Ho conosciuto veramente due colleghi a lavoro e basta. Non sono mai uscito, non ho mai fatto niente. Anche perché a una certa, e non sto scherzando, la mia routine era questa. Sveglia alle 4 e mezza di mattina, doccia ghiacciata ogni singola mattina ed era pessima. Poi facevo una colazione abbondante anche perché mi stavo spaccando in palestra, ovviamente in quel periodo ho messo su tipo 8 kg di massa. Sporca, ci tengo a dirlo. E poi alle 5 di mattina iniziavo ad editare dei video, iniziavo ad imparare a come gestire YouTube, iniziavo a pubblicare, pubblicavo tipo un post al giorno su Instagram perché volevo crescere, eppure non funzionava. Però ho passato sabati, domeniche, in cui sono stato al computer a imparare ad editare, a imparare alcune cose. Quindi è stato un periodo di focus totale. La mia routine seriamente era sveglia a 4 e mezza, doccia fredda, colazione abbondante, edita, vai a lavoro, spreca 8 ore, allenati 2 ore in palestra, torna a casa e se serve leggi o edita ancora, dormi e ripeti. È stato questo, non dico per tutti i 6 mesi, ma almeno per 3 di quei 6 mesi. Ecco perché mi sentivo da solo, mi sentivo totalmente da solo. C'era una parte di me che diceva, cavolo, voglio tornare in Italia, voglio vedere i miei amici, la mia famiglia, voglio passare del tempo con loro. Quindi sicuramente la mia esperienza è molto diversa da quella della maggior parte delle persone, ci tengo a specificarlo. Ultima domanda, è stata utile come esperienza? Pro e contro. Se è stata utile, te l'ho già detto, è stata fondamentale per il mio percorso. Senza quel periodo in Irlanda non sarai qua, e lo dico tranquillamente. Pro e contro. Contro. Cioè di tutti in Irlanda piove sempre, porca troia. Avrei dovuto andare in Spagna, a Malaga, a prendere il sole, a divertirmi, però ho scelto anche un po' consciamente l'Irlanda. Volevo andare là, però veramente contro piove sempre. Il sole d'inverno sorgeva alle 8 e mezza, 9 di mattina, il che è una cosa che ti mette una depressione totale, soprattutto se vivi in Italia, che è comunque un paese in cui c'è il sole, in cui l'estate si sta bene, eccetera. Là piove sempre, cazzo. Secondo contro, mi sentivo molto solo. È un contro ma è anche un pro allo stesso tempo. A mio parere, se vuoi essere una persona di successo, devi imparare a stare da solo. Non dico che devi stare solo tutto il tempo, dico che devi imparare a stare con te stesso. Devi imparare a conoscerti e a lavorare a volte anche da solo. Pro, nel mio caso, ho imparato meglio l'inglese. Mi sono dedicato ai miei progetti e che mi hanno portato fino a qua. Ho imparato a stare da solo. Mi sono caricato sulle spalle molte più responsabilità. Infatti dovevo prepararmi da mangiare, fare la spesa e vedere del mio stipendio. Infatti nessuno mi mandava dei soldi. A una certa ero rimasto con, mi ricordo, 50 centesimi sul conto in banca e non potevo neanche comprare i fagioli più scadenti del mondo per poter cenare. Anzi, dovevo comprare i fagioli più scadenti del supermercato per poter mangiare perché ero senza soldi e stavo aspettando lo stipendio successivo che è una cosa che mi ha insegnato molto. Ho dovuto imparare a stirarmi le robe, a farmi le lavatrici, a quindi mixare tutti i colori, a far diventare fuori i vestiti uno schifezza. Sono tutte cose che ho imparato vivendo da solo all'estero. Vivere da solo ti fa uscire dalla zona di comfort, ti carica di alcune responsabilità e le responsabilità ti fanno diventare più uomo. Le responsabilità ti fanno diventare anche più donna se sei una ragazza, ovviamente. Ti fanno diventare più maturo, che è una cosa fondamentale. E io mi ritengo, non è per flexarmi, non è per... Mi ritengo più maturo rispetto a molte altre persone della mia età. Perché? Perché ho fatto delle esperienze che mi hanno permesso di maturare. Non so cos'altro aggiungere. Se hai domande, fammelo qui sotto nei commenti. Spero che sia stato utile questo video per te. E così fosse stato, iscriviti al canale, attacca la campanella delle notifiche e Leone, ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.